Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi vi mostreremo un piccolo alleato perfetto per creare i vostri progetti che hanno bisogno di sostegno ma che non sia troppo rigido. Stiamo parlando del regilene. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nastro in regilene, un nastro in poliestere molto flessibile, che non si spezza, ma al contempo molto resistente. Verrà venduto in unità da un metro. Il regilene è disponibile in due formati, quello più grande da 12 mm e quello più piccolino da 8 mm, disponibile anche nella colorazione bianco. La flessibilità ma allo stesso tempo la grande resistenza di questo nastro permetterà di utilizzarlo per numerosi scopi, come ad esempio rigidire dei cappelli, creare dei corsetti o degli abitini da ballo, ad esempio. Inoltre può essere passato a macchina da cucire, questo perché è facilmente perforabile e può essere anche lavato in lavatrice fino a 60 gradi. Bene, come avete visto quindi questo piccolo nastro può essere un perfetto alleato per tutte le creazioni che hanno bisogno di sostegno ma al tempo stesso di una leggera flessibilità. Pensate ad esempio alla realizzazione dei corsetti, un capo che sta letteralmente spopolando su tutte le passerelle dell'alta moda. Oppure ad esempio a quando volete creare dei pupazzi in pezza. Per non avere un effetto troppo morbido diciamo, basterà inserire il regilene al suo interno e il pupazzo avrà quindi un leggero sostegno al punto giusto e continuerà ad essere super flessibile e morbido. Altro utilizzo molto frequente è quello per la creazione di accessori come i cappelli con tesa larga oppure per dare un leggero sostegno alle borse. Pensate anche alle gonne degli abiti da ballo, certo bellissime, molto ampie ma che hanno comunque bisogno di un certo sostegno. Quindi il regilene vi permetterà di trovare il perfetto equilibrio tra sostegno e flessibilità ma al tempo stesso rimane un materiale molto resistente. Bene, quindi arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri social così da essere sempre aggiornati su tutte le novità Tessiland. Quindi vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maya e i nostri canali Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog. Al prossimo Tessiland News! Al prossimo Tessiland News!